Mio marito, ovunque vada, deve sempre fare l'eroe. È personale, sono io contro di te. Farò visita a tua moglie e a tua figlia prima. Prendono di mira le persone che amo e ottengono quello che vogliono. Non ti ucciderò. Finché non avrò quello che mi serve. Tira fuori quell'arma e sei morto! Posso portarti via tutto. Scegli il posto e finiamola.